Comunicazione e politica non si possono più vivere come due momenti separati, per questo in tutto il mondo ormai ci sono percorsi professionalizzanti per i consulenti politici, percorsi formativi e di studio che formino figure adatte ad occuparsi di comunicazione politica assieme. Anche in questo l'Italia è molto indietro e soprattutto per questa ragione corsi come questo servono molto, servono a spiegare, a capire in profondità la politica e poi a riuscire a operarvi.